Cacciava con mezzi illegali il bracconiere sorpreso dagli uomini del corpo forestale di Cartoceto a Tombaccia di Fano. Gli agenti, durante un servizio antibracconaggio eseguito lungo il fiume Metauro, si sono recati in un appostamento fisso di caccia, regolarmente autorizzato, dal quale proveniva un singolare canto persistente e continuativo. All'interno, infatti, è stato sorpreso un 35enne di Fano, intento a cacciare lecitamente, con l'ausilio di un richiamo cussico a funzionamento elettronico vietato dalla Regge, riproducente il canto del beccaccino. Inoltre, aveva a disposizione ben due fucili, di cui uno provvisto di ottica di precisione. Per l'uomo è scattata l'immediata denuncia alla Procura della Repubblica, con il sequestro del richiamo elettronico, dei fucili e delle munizioni. Al 35enne è stata anche elevata una sanzione amministrativa per essere andato a cacciare al di fuori degli orari consentiti.